Io mi aspetto che alcune situazioni in cui sono stati un po' timorosi, questo timore vada via, vada. Abbiamo di fronte un avversario che sicuramente ci metterà in difficoltà. Io voglio vedere l'attenzione, voglio vedere la grinta che hanno messo l'altro giorno. Cercando di migliorare alcune cose, dobbiamo cercare un attimino di andare a crearci qualche situazione un pochettino più favorevole. L'ultima partita sono state poche le situazioni, dobbiamo crederci un pochettino di più in determinate situazioni, andarle a cercare. Sicuramente è dell'avversario che andiamo a affrontare una delle squadre più forti di questo campionato, di quelle che è sempre rimasta lì davanti, hanno grande potenziale, hanno grande qualità. Di conseguenza mi aspetto dai miei una buona partita, una crescita, da un punto di vista dell'intensità, da un punto di vista dell'attenzione, sapendo che di fronte abbiamo un avversario che ci può creare delle difficoltà. Perché è un avversario che nelle partite che ho visto difficilmente ha subito la squadra avversaria. È una squadra che cerca di impostare l'azione, è una squadra che cerca alla sua personalità, è una squadra costruita con buonissimi elementi, di qualità e di conseguenza dovremo avere molta, ma molta attenzione. Quando c'è un momento di difficoltà come abbiamo noi, affrontare squadre di blasone sia meglio. Nel senso che sono squadre che sicuramente verranno qua a giocarsi la partita, sicuramente ci creeranno delle difficoltà, però ci concederanno anche campo. A questo punto è più difficile in questo momento probabilmente trovare una squadra che ti aspetta e riparte, che trovare una squadra che probabilmente si può anche sbilanciare pensando che tu possa essere un attimino in difficoltà. Perché io le partite che ho visto del Pordenone è una squadra che sia in casa o fuori casa ha giocato sempre con lo stesso atteggiamento, cioè cercando di fare la partita, cercando di alzare molto gli attaccanti, gli esterni. Di conseguenza probabilmente c'è caso che qualche difficoltà, sicuramente spazio in campo ce li possono dare. Abbiamo alcuni giocatori che avevano qualche piccolo problemino, di conseguenza queste sono scelte che è normale che uno debba fare perché a ridosso di una partita poi abbiamo già un'altra partita tra pochi giorni, di conseguenza è normale che alcune scelte andranno fatte. Adesso dobbiamo valutare ancora alcuni giocatori e poi vedremo un attimino. Sicuramente qualche d'uno che ha giocato l'altro giorno sicuramente non giocherà, ma non è una bocciatura, non è assolutamente, è per tenere tutti sulla corda perché, come ripetere, specialmente in determinati ruoli dietro siamo tanti, tutti molto validi, di conseguenza potersi che sicuramente qualche cambio andrà fatto.